Secondo il Daily Mail, che si tuffa in uno scenario di mercato, il Manchester City, spinto dal suo allenatore Guardiola, avrebbe messo gli occhi su Manuel Locatelli, centrocampista classe 98 della Sassuola della Nazionale, ex Milan. Secondo gli inglesi, il City sta preparando un'offerta da 30 milioni di sterline, vale a dire malcontati sui 33 milioni e mezzo di euro, per provare a prendere i giocatori nella prossima stagione. Dalle informazioni che ho, che abbiamo qui sul mercato, Manuel Locatelli ha un futuro già assegnato, vale a dire il suo trasferimento alla Juventus è solo questione di mesi, bisogna aspettare la fine del campionato. Il club di Andrea Agnelli lo aveva trattato anche nell'ultima sessione di mercato, poi non c'erano le condizioni economiche per chiudere i tempi, per chiudere con il Sassuolo. I due club hanno grandissimi rapporti, hanno fatto tantissimi scambi sul mercato, tantissime operazioni, adesso stanno trattando anche il trasferimento di Scamacca in bianconero. Ecco, Locatelli, contratto in scadenza nel 2023, è destinato a dire sì alla Juventus, chiaramente ad una condizione che il club bianconero dalla prossima stagione possa mettere a bilancio un'uscita da 40 milioni, perché questo è il prezzo del cartellino del giocatore che dopo aver lasciato il Milan è cresciuto tantissimo e adesso è diventato un giocatore, un centrocampista totale dal profilo internazionale.